Signore e signori buonasera, benvenuti a quella che è la nostra rubrica dell'intervista impossibile e questa sera per noi, per voi, un personaggio di quelli importanti, importantissimi ovvero sia da uno mattina, signori, il nostro Luca Giurato Luca, buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera che sono veramente contento sono con voi una cosa bellissima, mi piace tanto, noi stiamo qua siamo onorati anche noi, siamo nel nostro studio televisivo eccolo là, allora Luca, facciamoci una bella chiacchierata, parliamo di te facciamoci una bella chiacchierata, parliamo di te no, di te, di te, di caffè, la gente dice questo studio, ma non è vero non è vero proprio ma perché devono dire questo, facciamo una cosa, parliamo di me parliamo di te, ok, parliamo di me parliamo di te, parliamo di me, ok, va bene, allora buonasera a tutti quanti uno mattina, la 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 la, sono un po' incazzato Valentino che è successo? sì, è successo che stanotte scusa però, non mi chiamare Valentini per cognome, chiamami per nome eh, per nome, chiamati per nome, Domenico Domenico e vedi le cose le so e niente, stanotte è dormito sullo zerdino, che fuori da casa un'altra volta, ma perché? Che è successo? è successo che praticamente, che è successo? che è successo? ah niente, mi voglia, siccome tutta la serata mi stava a dire mi hanno detto che frequenti night no, a me ma chi gliela ha detto? ma che ne so, io c'è il tupetto, sei impazzito, allora si non si credi, vieni con me al night ma dai, non si credo, tu hai portato tua moglie al night per dimostrargli che non era vero che andai al night eh certo, l'ho portata al night, siamo arrivati, mi ha fatto il butta fuori si accomodi signor giurato ahia, e cominciamo proprio male però Luca e beh, che posso fare, io posso fare io ho detto a mia moglie, non ti preoccupa, tu ti impressioni ma la gente vuole tutti quanti far vedere che conoscono il giurato te la sei cavata bene? me la sono cavata bene a dispetto di chi dice che sei stupido, invece scusa, ottima e no, perché che dovevo fare? insomma, sono entrato dentro, la cameriera ci ha detto il solito posto si mi ha giurato no, anche lei e come hai fatto? e come ho fatto? io ho detto, ma mia moglie è perché vogliono far vedere che me conoscono ah, è certo e mia moglie mi ha detto, e so, eh già, c'è ragione pure tu e sì, e no anche perché effettivamente, insomma, è chiaro, no? se uno incontra Luca giurato, no? io per farmi grande voglio far vedere che lo conosco bravo, tutto lo stesso atteggiamento appesito e tua moglie ci ha creduto due volte di fila e assolutamente sì allora è successo, a un certo punto è arrivata la prima a sbogliare il list al night ma perché se ne aveva neanche lo spettacolo e stava lì e stava la rovista, insomma, eh e questa qua si è denudata di tutto a un certo punto completamente nuda un perizoma leopardato ah e lo volteggiava in aria gium, gium, faceva, capito? addirittura gium, effettivamente riconosco il rumore del perizoma che volteggia leopardato perché se non era leopardato faceva gium se non era leopardato come faceva? a un certo punto questo ha detto da chi lo diamo questo? ecco e che è successo? si sono alzati tutti in piedi come tutte le sere a Luca Giurano ah 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 bene e questa volta come te la sei capata? mi muoio e sei incazzata ma ha cominciato da pugni, schiaffi, botte la bozzetta di un sabbio ti abbiamo guadagnato l'uscita in fretta e in furia e ci credo quante botte? oh mamma mia abbiamo chiamato il taxi infatti vedi che c'ho i capelli belli agli oli e peperoncini eh certo sì che schifo questo particolare potevamo lasciarlo anche stare e vabbè insomma ci sta a un certo punto siamo arrivati fuori ci abbiamo chiamato un taxi abbiamo preso il taxi siamo saliti sopra e mentre tornavamo a casa lei continuava a menarmi però guarda caro Luca anche io ti avrei massacrato di mazzate c'era ragione tua moglie poi quando siamo arrivati davanti a casa è successa una cosa che è successo? e io ho detto al tassista quante scusi si è portato verso mia moglie che stavate qua ha detto a Luca eh a me a te a Luca ha detto dei mignotte nemmo caricate tante ma stronza come questa ha capito? perché pure il tassista complimenti e a quel punto immagino tua moglie ti avrà massacrato ho dormito sullo zebbino mi ha fatto dormire fuori al freddo e al gel io se fosse sedente moglie l'avrei fatto anche peggio e che posso fare